Musica Giornata dedicata all'ambiente e cartigliano in festa nella splendida cornice della Villa Cappello con l'evento conclusivo più atteso dell'anno scolastico organizzato da Etra con progetto Scuole un percorso di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolto alle scuole di Padova e Vicenza per imparare il risparmio, riuso, riciclo, i corretti comportamenti per avere un ambiente più pulito e sostenibile Un appuntamento consolidato e importante a cui si unisce la società Il progetto Scuole di Etra è un momento importante nel percorso scolastico di apprendimento dei giovani dei 75 comuni soci della Multi Utility Anche quest'anno ha registrato il tutto esaurito Lo dicono i numeri di questa diciottesima edizione 18.000 ragazzi coinvolti, 151 scuole aderenti oltre 4.000 in più rispetto alla precedente edizione Una grandissima proposta che quest'anno compie 18 anni quindi abbiamo raggiunto la maggiore età e la maturità Una proposta unica, omogenea, unitaria, di crescita e di sostenibilità ambientale di cultura e di partecipazione attiva da parte di quelli che saranno domani i nostri veri cittadini Infine si premiano questi ragazzi per la complicità che hanno anche fra di loro Certamente, il fare le cose assieme, vedere che gli adulti e i bambini si mettono assieme collaborano e mettono le mani in pasta e quindi si mettono in gioco è la cosa più bella Questa giornata proprio lo rappresenta, stanno tutti giocando, adulti e bambini con lo spirito di quello che una volta era proprio la volontà di fare squadra a fare squadra positiva e cerca di aiutare, di agevolare queste iniziative proprio perché il nostro compito, la nostra missione è essere d'aiuto agli altri Cerchiamo proprio di allargare anche la gamma delle nostre proposte perché oggi le necessità del mondo sono tantissime le proposte devono essere pari pari alle loro necessità e credo che su questo ci stiamo organizzando e tutto sommato posso dire che ho dei bravissimi collaboratori per poter fare queste proposte Alla fine dell'anno l'impegno dei ragazzi si concretizza con la partecipazione ai corsi La Natura Insegna, pensato per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado a cui quest'anno hanno partecipato 30 scuole e un mondo di risorse dedicato ai ragazzi delle superiori con 7 scuole partecipanti Che progetto hai fatto con la scuola? Abbiamo fatto un progetto che presenta il ciclo dell'acqua e ci siamo molto divertiti a fare tutto questo Ci siamo divertiti e abbiamo collaborato facendo questo plastico rappresentando il ciclo dell'acqua È bello conoscere l'acqua Sì, perché fa un ciclo importante per la nostra salute Il primo premio se le ha giudicato la sezione media della scuola di infanzia Santissimo Redentore di Fellette di Romano con il lavoro sul risparmio idrico Il premio Coppertina, la terza A delle medie di Mason Vicentino con il lavoro sul fotovoltaico Sei divertita a fare il progetto con i tuoi compagni di classe? Sì Abbiamo colorato Ciao mamma Cosa hai fatto? Abbiamo fatto... A parte che ci vediamo Ciao mamma Ciao mamma Grazie a tutti.